Oh, Ezzecchino e Mario! Come va? Ehi, Gimbo! È un piacere incontrarti! Ho saputo che ti sei puntato a capofitto nel trading, vero? Eh già, ho fatto alcuni corsi ed effettivamente sono già otto mesi che sono live! Oh, fantastico! E come sta andando? Oh, benone! Scrivo sistemi tutto il giorno! E quanti ne hai live? Io ho una quindicina! 32! Oh, però! Si è messo bene, eh, Guascone! Beh, non tanto, eh! Beh, dai, non faremo adesso! Insomma, ci vogliono un po' di soldini per metterne su 32 al posto di 15, dai! Guarda, non sono mica del tutto d'accordo, eh! In che senso, Ezzecchino e Mario? Guarda, basta incastrarli bene con le correlazioni! È tutto un gioco di correlazioni! Beh, certo! Va bene! Hai letto che stai scrivendo tutto il giorno! Quanti trading system hai? Ottanti! Ah, però! Duecento... Tre mila e ventitré! Ma la smetti? Eh, sto scrivendo molto! Molte idee, eh! Ma come posso crederti? Unger non supererai 300! Scusa, ma che c'è di male? Ah, vabbè, se tu sei scarso, sono fatti i tuoi! Ma dai, non sei credibile! Keep it simple stupid! Nel trading, eh! Dai, diciamoci, ma in realtà è difficile inventarsi qualcosa di totalmente nuovo! Vabbè, ziii! Dai, mandamene qualcuno! Eee, guarda, mi si brucia il ragù! Che? Il gatto! Cosa? Piange! Ma di cosa stai parlando? Piange proprio a dirotto! Vabbè, dai, ma mica te li voglio rubare, per carità! Se non ne voglia, pazienza! Volevo solo fare un po' tipo scambio di figurine! Così io ti do un po' del mio e tu mi dai un po' del tuo e ci guadagnavo entrambi! Guarda, vorrei tanto aiutarti, ma proprio... Guarda, devo friggere il gatto, togliere il ragù dal pelo... Guarda, ciao! 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 Ma che zecchie è? Ciao! Aiuto! Ciao!